Abbiamo vissuto insieme tantissimi momenti importanti della vita del paese, della storia del paese. Franco Marini ha svolto un ruolo molto importante perché in un momento difficile, persino drammatico della storia del popolarismo italiano, lui ha salvato quella tradizione, ha salvato quel partito e ha collocato il partito popolare nel solco del centrosinistra. Una scelta politica coraggiosa, forte, che ha aperto una prospettiva a quelli che erano gli eredi di questo mondo cattolico-democratico. Quindi ha svolto un ruolo importante nella vita del paese, senza di lui non sarebbe nata l'esperienza dell'ulivo e tutta la storia del centrosinistra in Italia non ci sarebbe stata. Penso che questo sia stato, dal mio punto di vista, un merito incancellabile. Poi è un uomo che ha avuto la fortuna di poter vivere tutta la sua vita rimanendo fedele ai suoi ideali, che è una grande fortuna, è una cosa che dà serenità. Un uomo legato al movimento dei lavoratori e ai valori del cattolicesimo.